In occasione delle giornate del FAI, Spello inaugura una cosa straordinaria, la villa dei mosaici romani. 500 metri quadrati di splendidi mosaici raccolti in una struttura realizzata con i finanziamenti pubblici dello Stato, della comunità europea, con la sovrintendenza che ha sopravvisionato tutto quello che è stato il lavoro dal 2010 fino ad oggi. Un'opera straordinariamente bella, un'opera meravigliosa che sarà sicuramente vanto per l'Umbria. Ecco, in una occasione come questa ci dobbiamo chiedere che cosa è il passato, quanto è importante il passato. Con i romani che costruivano abitazioni, e noi non ce lo immaginiamo, che erano alte fino a sei piani. I piani più alti erano quelli che costavano di meno, perché c'erano più pericoli di crollo, erano più scomodi e più freddi. E voi pensate che 500 metri quadrati di questa villa, di questa abdomus romana, erano solamente quelli dedicati ai bagni, al divertimento, al piacere, all'ospitalità. Perché la villa romana dell'antica colonia Iulia, che a quei tempi era più importante della stessa Perugia, quando il ricco proprietario si rifugiava nella villa, era la villa dell'Ozio, vale a dire dove ci si ritrovava per riposare, per vivere in santa pace, lontano dai clamori della città, ospitando gli amici. Perché i soldi, una volta quando ce li avevi, ce ne avevi tanti. E allora ecco che riscopriamo tutto quello che era il modo di vivere dei romani, attraverso quelli che sono i luoghi della casa, il peristilium, le terme, la cucina, dove si mangiava, il triclinium, come mangiavano i romani, quello che mangiavano i romani. E sorprende che i romani fossero ghiotti di carne di pavone e di ghiro. Mangiavano anche l'altra carne, soprattutto pesce, però sapere che potessero essere ghiotti di pavone e di ghiro lascia un po' sorpresi. E quella domus riscoperta per caso che ha portato al ritrovamento di questi meravigliosi mosaici ci permette di capire quelli che erano gli arredi delle case romane, come venivano riscaldate le case romane, come si viveva all'interno delle case romane. Il pranzo, il triclinium, dove erano ammessi solo ed esclusivamente gli uomini, raramente venivano ammessi i bambini e le donne, le mogli, perché le schiave e gli schiavi servivano. E così come il modo di vestire, così come il modo di vivere, ozio et negozio, già perché il net ozio diventa poi negozio, quello che è adoperarsi per il bene della città stando in ozio. E poi da net ozio negozio arrivano i nostri moderni negozi, dove ci sono le attività. Ma un tempo era adoperarsi per il bene della città, attraverso il pensiero, attraverso gli scritti, attraverso la filosofia, attraverso il vivere la città. Gran bella cosa quella di Spello, davvero bella, bella, bella. Noi dedicheremo una puntata di televisioni proprio a questa inaugurazione, a raccontarvi quello che poteva essere la Domus Romana scoperta per caso, è diventato un momento importante per la città di Spello, già ricca per conto suo di reperti romani, di qualcosa di straordinario. Ecco, per Pasqua e per Pasquetta sarà aperta la Villa dei Mosaici di Spello e magari potrebbe essere anche l'occasione per farci una visita, per guardare di persona quelli che sono di splendidi mosaici, capire come venivano realizzati gli stucchi, i mosaici, le pareti, le case, il riscaldamento. Perché a volte abbiamo tante cose sotto il naso e non ce ne rendiamo conto. Eppure, al di là di tutto, noi italiani siamo il paese che abbiamo qualcosa come il 90% del patrimonio artistico e culturale presente nel mondo. Nonostante tutto, a mia più cordiale buona serata.